I giochi erano già fatti e il presidente doveva essere bipartisan Marzio Favero. Poi la Lega ha scelto il sindaco di Castelfranco ed un tratto la provincia è diventata il banco di prova per Giovanni Manildo, sindaco di Treviso che non vuole fare il presidente ma che al partito ha detto obbedisco. Perché se vince è l'ipoteca per un secondo mandato a Cassugana, se dovesse perdere anche in comune a Treviso verrebbe messa in discussione la leadership a favore di altri nomi per le prossime comunali come quello dell'assessore Paolo Camolei, solo per citarne uno. Ecco perché al di là dell'onere, certamente gravoso, che si somma a quello già impegnativo per Treviso, l'elezione del 18 settembre è da ieri diventata l'ennesima sfida politica tra centrodestra e centrosinistra. E tutto perché la Lega ha preferito Stefano Marcon a Marzio Favero. È stata una scelta interna al movimento, sono due figure di sindaci che dal mio punto di vista sono straordinari perché hanno competenze specifiche elevatissime e all'interno del movimento è stato ritenuto che Marcon fosse il più idoneo a fare questo percorso. Banco di prova per il PD e Manildo, ma banco di prova anche per il centrodestra. È chiaro che anche consiglieri comunali che gravitano all'interno di civiche di centrodestra mi viene da pensare che facciano anche riferimento o un pensiero se davvero è andare a sostenere un candidato alla provincia di Treviso così palesemente schierato a sinistra. Intanto però Manildo incassa il gradimento di una trentina di sindaci civici. Mi fa un po' sorridere quando vedo dei civici che scelgono come proprio rappresentante un elemento politico. Intanto c'è la corsa per la chiusura di lista, minimo otto nomi e firme. 190 a sostegno dei candidati che tra l'altro non è detto che rimangano due. Penso che il centrodestra insieme possa fare la fotografia di quella che è la situazione amministrativa delle nostre province, cioè ribadire la maggioranza del centrodestra. Io credo che sia un bel test per ricomporre il centrodestra anche in visione di quelle che sono le prossime tornate elettorali. L'anno prossimo abbiamo Conegliano che è un test importante e poi davvero c'è Treviso tra due anni.